Bentrovati i telespettatori del Sasso nello Stagno, questa settimana siamo a Ponte Nossa per parlare di elemosina. Giusto farla o non farla? Sentiamo cosa ne pensa la gente. Ma lei fa l'elemosina? E' idea a lei, a volte ma non tanto, perché non me la fanno nessuno, neanche a me. Quante volte le sarà capitato magari quello che vuole vendere i calzini, i fazzoletti o l'accendino? Tante volte. Ma lei dà fastidio? No. Che vengono sempre a chiedere? No, perché se mi danno fastidio non ci do niente. Ah, ok. Idem? Sì, per forza. Dopo a volte devi lasciargli il carrello per forza perché loro sono lì fuori che aspettano. Al supermercato? Sì, al supermercato. Ma sono invadenti? No, no, per quello no. L'Elio lascia volentieri l'euro del carrello? Sì, però anche loro sono lì al freddo. Quindi si fa un po' impietosire? Eh, sì. Lei? Niente. Niente? No, quando capita le do qualcosa, ecco, che hanno bisogno anche loro. Ma secondo me che poi si allarga il giro della serie? Sì, sì, venite qui a Ponte Nostra che sono tutti bravi, dando tutti i soldi, dando tutti le mosi, andiamo tutti a Ponte Nostra. Una volta tanto sì, ma dopo... Non è che diventa una regola fissa che ogni volta che lei incontra attacca? No, no. Senza esagerare? Una volta, una volta all'altra, non sempre, non sempre quello. Senza esagerare? No, senza esagerare. Quanto lascia di solito? Cinque euro? Anche meno. Anche cinque euro, sono tanti, eh. Sono tanti, cinque euro. Quanto è l'elemosina giusta? Un paio di euro, due euro. Ma non cinquanta centesimi, quindi è già buona. No, cinquanta centesimi non l'ho mai dato. Allora, quando serve sì, dopo dipende un pochino. Chiamiamola carità, magari nei casi, tipo quando raccolgono, chiedono i soldi al telefono, quando dicono chiamate il numero, lasciate un euro. No, io non ho quelle cose, io non le faccio, no. Quando invece arriva magari il senza tetto oppure il ragazzo di colore all'angolo della strada? Ascolti, ne ho bisogno anch'io, che nel 2012 mi ha lasciato a casa. Quindi non è il caso, dice di... No, no. Bisognerebbe dare un po' di più posti di lavoro e aiutare più le persone bisognose. Non fare entrare di tutto e di più, dove dopo vanno a finire che vanno a rubare. Questo è il mio pensiero. Quindi danno un po' fastidio a questi ragazzi anche in forza, che insomma... Cioè, non hanno fastidio, l'importante è che se entrano da dargli un lavoro, non che vadano a rubare nelle case e distruggere l'economia che c'è nelle case, perché quando spaccano destra e sinistra non è tanto bello, che perché ai lavori ce ne sono poco e come torno a dire, sarebbe meglio dare il lavoro sul posto piuttosto che fare entrare della gente che poi vanno a rubare. Quindi no alle lemosine? Eh, sono un po' in contraria. Sì, ogni tanto sì. Sì? Sì. Ma quanto lascia di solito? Beh, quelle poche volte che vado io in chiesa, anche 5 euro per volta. Ma lei dice che lascia i soldi in chiesa? Sì, sì. No, no, io parlo di quelli magari all'angolo delle strade. No, 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 quelli no, no, no. No, io non li vedo. Perché non li dà fastidio? No, non mi va. Nel fastidio, né niente, comunque non mi va. Certo che danno le moni. Sì? Certo. A tutti quelli che incontri con... No, non a tutti. Che effetto ti fanno quando li incontri? Cosa dici? Cosa pensi? Poverini, diamogli qualcosa che danno bisogno. No, a qualcosa... Oppure pensi andate a lavorare? No, a qualcosa si dà. Nel limite, nel limite. Ma anche i lavavetri in città? No, ai lavavetri no. A quelli che vendono le rose, ai ristoranti? No, a qualcuno, se incontra qualcuno fuori dal negozio. E quanto lasci di solito? Dipende. Sei mai andato sui soldi in carta? No, no, soldi in carta no. No, sempre moneta. No, no, monetina. Come si comporta lei quando vedi quei ragazzi che fanno le lemosina col cappello? Si, si comporta mia tabbe. Ma lascia qualcosa in le lemosina o meglio di no? Eh, dalle volte sì nel carrello. Come nel carrello? Quando mi dà il carrello dal supermercato gli do la mancia. Là ci sono sempre? Sempre. Ma le danno un po' fastidio sempre gli sti qua che chiedono soldi? Un po' sì, un po' no. Dipende dai giorni. Ecco, si accorta la luna. Come si comporta lei con quelli che chiedono le lemosina? Ma io non mi fido. Non la dà? No. Cioè sa che ce ne sono tante, chi in un modo, chi nell'altro, tutti a chiedere il soldino. Proprio? Niente. Ah, nessuno? Nessuno. Magari neanche per quelli di cui magari conosci? No, chi che conosco è un'altra cosa, ma c'è gente che non mi fido. Per esempio quelli che lavano i vetri? Quelli poi... Zero. Zero. Quelli che vendono i calzini, gli accendini? No, 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 non prendo niente io. Apparante che la spesa la fa mia moglie, io vado solo a prendere il pane e il giornale, basta. A limite la lemosina ci pensa lei. Come vi comportate quando chiedono le lemosina? Ma ne gota. Non gli dà? Non gli do niente. Perché? Mi dispiace. Ma con nessuno intanto qualcosa... Con nessuno. Niente. Neanche con chi conosce? No. Niente. No, perché magari... Perché magari? Perché magari ne hanno più di me. Come si comporta lei quando incontra quelli che chiedono la carità? Le lemosina. E' insasto perché è un carico più ognuno. Ciao. Quindi non gli dà? No, 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 no. Io non glieli do. Perché? Perché de no. Ma le dà un fastidio? Mi dà un fastidio tanto. E' tra comunità, li puoi stare a soccar. E' una ora che gli manda via, non do che si va a fare spesa. Però per il governo non è che gli dà di meno. Ecco. Ecco. Ha visto quanti che sono magari lì a chiedere l'obolo? E' per dare di meno, però è l'Italia, che è l'Italia, è la strada. Quindi lei non fa le lemosina? No. A nessuno? A nessuno. Niente? A nessuno. Ma rincresce perché i marincresce, perché gli accomodano malche. Però per la ciappia fa lì un po' più sistema. Ciappia chi chi gatta ciappia e basta. Guarda qui, tema del giorno, fare o no le lemosina? A chi? A me. No, tu non hai bisogno, figurati. Ne avrei incontrati tanti che chiedono il soldino. Ma a me proprio dagli soldi con tanti non mi filo mica tanto perché c'è tanta gente che dicono che siano mandati apposta per cercare soldi e poi... Magari di pro-organizzazione. Esatto. Da poi invece ho tipo il giovedì su Ardesio, il mio negretto, io offro sempre caffè. Ah, ecco. E il sabato lo yogurt ha un altro negreto che viene lì. Ah, perché vengono anche al banco? Sempre, sì, 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 sì. Un po' ti stancano queste situazioni? Tutti, santi e sabato, questo che arriva. Ma oramai ho i miei clienti fissi, non li perdo più come clienti. Ah, ok, ok, ok. Quindi... Quindi sì, è così la cosa, ecco, torno a ripetere, non mi piace dargli i soldi, però io offro sempre qualcosa ai miei soliti. Non hai paura che si diffonda la voce? Ragazzi, c'è Alex, c'è Alex che offre il caffè! Non ti è mai capitato che ne arrivi più di uno? Sì, mi capita con... com'è che si chiama? Con gli zingari. Gli zingari dai un pezzettino a uno, arriva tutta la famiglia. Ecco, ecco. In quel caso come ci si comporta? Eh, va bene, quella volta lì l'ho dato a tutti, dopo la volta dopo non ho dato più niente a nessuno di loro, perché... Ovviamente, devono anche lavorare, non soltanto regalare. Certo. Ma è tipo quelli che vendono invece? Chi vende i calzini? Chi vende la cintura? Ma... Generalmente no, da ambulante si vede... Non vengono a vendere l'ambulante. Ah, ok. Ma non ti sarà capitato magari in giro di essere avvicinato? Ogni tanto vendono anche i libretti, i libri? Ah, i libri io dico sempre che non so leggere, che è quasi vero. Quindi ti salvi? Mi salvo. Prima hai acquistato neanche un accendino... No, 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 no. Niente, niente, niente. Fare o non fare l'emosina? Dipende. Da? Da... Da chi lo chiede? Sì, da come? Mi viene chiesta. Ti è già capitato di fare qualche... Sì, ma ci sono come quelli che magari ti puliscono il vetro, te lo sporcano apposta, poi te lo puliscono, poi ti chiedono... Allora lì, non è giusto. Che vengono lì comunque... Ah, l'azione ti fa anche leggermente arrabbiare. Eh, l'Italia è diverso. Certo. Chi invece magari è un pochettino più... Diciamo... Soft nel chiederlo, allora vabbè... E vedi che ha proprio problemi, allora vai a chiederglielo. Magari anche fisici ogni tanto si incontrano in città, quelli che zoppicano... Dipende, certo. Dopo... Non bisogna neanche mai esagerare. Secondo te poi, perché c'è qualcuno anche che ci marcia? Sì, secondo me c'è qualcuno che ci marcia. Ma più che i diretti c'è qualcuno dietro. Ah. Secondo te queste persone vengono messe lì apposta? Secondo me sì. E quindi magari guadagnano anche più di te? Secondo me sì. In alcuni casi sì. Secondo me, specialmente fuori dai grandi magazzini e così, che li mettono, vengono proprio, secondo me, spinti lì. E quindi ti danno un po' fastidio o giro la testa dall'altra parte, li saluti lo stesso, fai finti di non vederli? Salutarli, secondo me, comunque se ti salutano è giusto salutarli. Dopo... È una cosa che non si sa mai se dare o non dare, perché magari dai sfogo a qualcuno dietro. Eh certo. E quando ti è capitato? Quanto hai lasciato? Bah, dipende. Quello che hai in tasca di monetine, alla fine... Monettine. E non lasci chissà cosa. Cioè non è che ti fai il portafoglio, con i 5-10 euro. No, anche se ho visto gente che... Ah sì? Sì, però... Tu tra i monetini non vai? No, perché alla fine... Cioè anche io sono in giro a lavorare. E penso che anche loro possano... Invece che star lì così, andare a chiedere a lavorare. Stiamo chiedendo alla gente se fa le lemosina. Ma tu di solito sì, ma non a tutti. Perché adesso sono anche stufa. E come fa lei a dire a te sì, do... No, no, do niente. Non dico a te sì, a te no. Dipende, insomma. Così, quel giorno che ho qualcosa in tasca di moneta, glielo do più che volentieri. Ma non a tutti. Io sono stufa di quelli che girano nel paese. Sono stufa di incontrare in continuazione gente. Sono soprattutto stufa di ricevere telefonata, che te regalano tutti, ma... Alla fine te regala niente e nessuno. E quindi basta. Ci sono anche, a proposito di telefonate, sai, in questo periodo c'è anche Teleton, ci sono gli SMS solidali. Mando un messaggio, un SMS... Sì, a Teleton l'ho mandato, così come per Amatrice, però adesso basta, insomma, non è che mando a tutti indistintamente. C'è sempre da fidarsi di queste raccolte fondi? Non mi fido di tutti. Non mi fido di tutti. Cioè, è solo qualcuno, ecco. Quando, per esempio, sono così famosi, importanti come Teleton? Ma fuori dall'ospedale, per esempio, io non lo sopporto più, perché di solito in ospedale non si va per stare bene. Di solito si va per farsi guarire o per fare dei controlli, quindi in quei casi lì no. Magari aspettano quello contento, perché magari ha ricevuto una buona notizia. Non può darsi, ma di solito quando si va in ospedale, proprio buone notizie, è difficile trovarne. E quanto lascia solitamente? Ma non so, due euro massimo, ecco, è il massimo però. E mai acquistato magari, se le offrono in cambio? No, no, per favore. Come si chiama? Braccialetti? No, no, no. O accendini? No, 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 assolutamente no. No, prima cosa non fumo, perché cosa mi servono? Le calze. Le calze, c'è mio marito che invece è pieno di calze, perché invece lui... Lui le prende? Le prende e basta. Si fa impietosire? No. Fare o no le lemosina? Cosa ne pensa? Sì o no? Beh, pensate sì. Ce ne sono tanti ormai che chiedono le lemosina. E se fossero i nostri figli? Eh. Che chiedono la lemosina in giro, cosa si fa? È meglio dare un euro, anche se è poco, o no? Beh, ci sono quelli che hanno, che dicono, no, io ho la dignità, io non lo faccio, io non mi metto lì... Dobbiamo capire che domani può essere i nostri figli che vanno agli altri paesi a chiedere un euro per mangiare, non penso alla droga, però per mangiare, per dare un euro, un euro ciascuno, alla fine è sempre 20 euro che prendono questi ragazzi. Ma a lei le capita spesso di incontrare questi ragazzi? Sì, anche molto in giro. Sì? E lascia tutto? Un euro. A tutti? Eh, secondo, né. Un euro. E noi è tanti. Cosa ne pensa? Fare o non fare le lemosina? Aveva saldita in chiesa mia. Lei la fa ogni tanto? Le capita? In chiesa. In chiesa? Solo in chiesa? Basta. Stiamo facendo interviste sulle lemosina. Farla o non farla? Sì, farla. A chi ne ha bisogno farla, certo. Quindi... Mia, a te, però, perché tanti che fa la recita del mercante. Ecco. Capito. Stiamo domandando quello, lei come fa a decidere a chi sia e a chi no? Cerca di guardarci, cerca di capire cos'è. Tipo i ragazzi che ce ne sono in giro tanti. I ragazzi quelli... Con il cappello. È difficile. Potomacchè, vedete che sono quasi tutti morocchini, quasi tutti... E allora lascia qualcosa o... No, no. No, no. No, perché poi vedi la persona che ha bisogno. Che è difficile trovarla, né. Uno dei nostri è difficile trovarlo. Capito? Magari hanno troppa dignità per dire no, 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 mi metto lì a chiedere... Especialmente quelli del paese, a parte il fatto che io qui non conosco nessuno che faccia una cosa del genere, però... Dici che noi non avremmo, noi bergamaschi non avremmo la faccia per metterci lì con il cappellino a chiedere aiutati. No, no. Ci saranno magari in un altro posto, sempre bergamaschi, ma magari vanno, cambiano zona per non farsi conoscere. Però il 90% è... Gli hai extra. E lasciare un euro a tutti sarebbe un po' troppo? No, ma loro tutti i giorni devi lasciare perché li incontri tutti i giorni. Tutti i giorni? Potrà. Tende solo, vai giù lì al minuscolo, vai giù al migros, vai giù, sono lì fuori. Quindi, tanti volte che ti passa fuori, mi daga. E le danno un po' fastidio? No, no, non le dico niente. Loro salutano, io rispondo, basta, è finito. Perciò possono stare lì tranquillamente? Sì, 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 per quello non mi danno fastidio. Perché se voglio le do, se non voglio non le do, siamo lì. Quando le capita di incontrare qualche ragazzo con il cappellino? A volte sì. Non sempre? Non sempre. Come mai? Qualche giù si sveglia più allegra? Su quale base decides? No, dipende se ho a disposizione o no. Certo, se ha qualche soldino, qualche monetina in tasca? Ecco. Sono tanti adesso quelli che chiedono le lemosine? Eh, no, no, li trovi fuori dei supermercati. Madonna, gli ha detto in giù. Eh, niente, però non è che sono tanti. Le danno fastidio? A volte sì. Sentirsi sempre chiedere il soldino? Eh, sì, sì, è vero. Eh, però, va bene. Niente. E invece quando si tratta di quelle raccolte fondi, tipo per i terremotati? No, a volte gli do qualcosa per i terremotati, così mi dispiace che sia successa una cosa così. E allora magari lì in paese che tirano, eh, abbiamo fatto anche la matriciana, abbiamo mandato giù, abbiamo raccolto 4.000 e qualcosa euro. Abbiamo mandato giù, sì, sì. In quel caso lì sì. Sì. Quando si danno a persone anche fidate. Eh, anche fidate, giusto, bravo. Quando invece magari lì si presenta il personaggio? Eh, non si sa se si dà, è vero, è vero. In quel caso non è molto convinta di farlo? No, non sono convinta, è vero, ha ragione. Fare o non fare le lemosine? Ma chi le lemosine? Sa che ci sono un sacco di ragazzi in giro con il cappellino che chiedono, oppure i lavavetri agli angoli delle città. Quelli che vendono le rose al ristorante, come si comporta? Quelli che fanno qualcosa, è giusto di dare qualcosa, è giusto di darci anche qualcosa, se fanno qualche cosa. Tipo quelli che fanno gli spettacolini, che suonano? Quello sì, perché meritano, hanno studiato qualche cosa, no? Ma quelli che stanno lì con il cappellino tutto il giorno così, che è un merito negota, eh? No. Io mi chiedevo un euro, no? Ho detto, se raccogli quella carta che c'è lì in terra, un po' di quella carta lì, ti avrò, eh, dis. Ah, ecco. Si è girata l'indaccia. Ah, ecco. Quindi lei e lemosine in quel senso lì è zero? No, no, lemosine bisogna dargliela se la meritano, un po', non troppo, eh. Quando invece fanno le ricolte fondi, tipo Teleton, tipo per le malattie, quando ci escono le pubblicità, mandate un messaggio su un sms, donate due euro tramite messaggio col telefonino? Insomma, non so proprio tutti questi, me che sono lì, come va a finire, eh. Non si fida? Non più di tanto. Fare o non fare l'elemosina? Dipende a chi. Tipo? No, guardi. Ci faccio un esempio. Hai i ragazzi che sono lì col cappellino? No. No? Quando gli chiedono lei proprio... No, perché so che poi li spendono in modo... Me l'ha detto, proprietari di un supermercato, che poi la sera vanno dentro e li spendono in birre, in cose così. Sì. Ah, allora zero, perso la fiducia. Esatto. Quando invece chiedono il raccolta fondi per... Sì, quello lo faccio, quello lo faccio. Si fida anche a dargli magari qualcuno che non conosce? No, beh, beh, le cose ufficiali che fanno vedere in televisione... Quello sono tipo Teleton... Quelle cose. Quelle sì. Quella ce la fidassi. Esatto, penso, spero di sì. Fare o non fare l'elemosina? Ma quando sono sicuro dove vanno, sì, volentieri. Eh, solo in quel caso? Solo in quel caso, perché sennò non mi fido troppo. Magari invece ai ragazzi che gli chiedono? Ragazzi sì, dai. Sono tanti che chiedono... Ragazzi sì, non guardo, ma se è un adulto o no, non mi va. Quanto lascia di solito? Eh, un euro, due euro, mica tanto, dipende poi dal... Comunque è sempre moneta, non è che tira fuori il portafoglio e apre i cinque euro. Mi fido poco anche di aprire il portafoglio. La faccio a chi dico io. No, non falla, falla a chi dico io, perché non mi fido. Quindi è quando ci sono delle istituzioni sicure. Sì, certe, sicuramente. Ma anche quando magari si conosce, si conoscono le persone che raccolano i forze. Certo, certo. Il motivo in più, persone che dai, è che sei sicura che arrivano al destinatario. Per esempio, tanti ci sono ragazzi, soprattutto di colore, che chiedono con i cappellini. Assolutamente no. No? Assolutamente no. Non mi fido perché tanto vanno a bere. Cioè, in pratica, come vanno a bere? Se tu le dai le lemosine a questi ragazzi di colore, il più delle volte poi li trovi... Non dirmi che non lo sai. Ma ci sono tanti? Mi incontro i tanti? Abbastanza, abbastanza. Per certo lo so comunque. Magari non è che tu pensi, che dici, ma sì, magari a casa ho un figlio. No, non ci penso proprio. Possono fare meno di farne che di chiunì. Ah, ok. Niente. Semplicemente, senza nulla togliere i bimbi che non c'entrano. Certo. SMS solidali? Assolutamente no. Neanche quelli? No. Mandate l'SMS per... Non mi fido. No. Niente, nessuno. Quindi assolutamente... La faccio? No, la faccio, che dico io, che conosco. Preferisco fare una persona del paese, o che conosco, e darglieli direttamente, che attraverso tanti... E quelli che invece magari ti danno qualcosa in cambio? Tipo i calzini? Ascoltala, sapere che la prima volta che mi ha messo il fa, ha detto i biusci, se valgono meno di niente. E poi una scusa per lasciare... No, hai ragione. Ma non ti danno qualcosa. Sono diventata proprio così, sono diventata così, sì, sì. Troppe cose senti, troppe cose vedi, e la fiducia è proprio andata. La faccio a chi dico io, a chi so io, a chi conosco, o persone di fiducia che so che arrivano comunque nelle mani di chi ne ha veramente bisogno. Stiamo parlando di elemosina, farla o non farla? Madonna, Madonna. Va bene farla per chi li ha da fare. Ma ce ne sono tanti che la chiedono, i ragazzi magari anche fuori al supermercato. Sì, sì, ma anche a me. Quando mi chiedono di dare la gana a chi, eh. Quindi non gli lascia. Non perdere il tempo qua. Certo che bisogna fare l'elemosina. Sì? Sì. A chi? A chi. A tutti? Ai Poermarte. Ai Poermarte. E come si fa a capire se uno lo è Poermarte o no? Quello è difficile. Solo buona fede. Per esempio i ragazzi con il cappello che chiedono l'elemosina? Non quelli che hanno due telefonini in mano per telefonare e chiedono l'elemosina. No, quelli no. E va bene, non penso che si mettono lì a chiedere l'elemosina col telefonino. Sì, due, con due telefonini in mano. Sì, e adesso c'è la l'elemosina. Ebbene. Che mi è capitata a me. Ah sì? Sì, sì, sì. E non solo quello. In quel caso lì no. E non solo quello. Ma ce ne sono un po' troppe di ragazzi, appunto, di persone che chiedono l'elemosina, le danno fastidio? Sì, ogni tanto se vai nelle botteghe, qua ogni bottega fuori, all'uscita c'è uno che chiede l'elemosina. Eh? O no? E' un po' troppo? Anche a Crusone, no? Eh? Anche a Crusone. E mandano fastidio? Bisognerebbe, non dico fare piazza pulita, mandarli via. Come sì? Mandarli via no, ma non prenderli tutti, sì. Ma non riceverli tutti, no? Perché non sono tutti quelli che scappano per la guerra. Ebbene. Le città più antiche del mondo le hanno distrutte tutte. perché cosa? Perché cosa? Perché cosa? Perché cosa? E dopo bisogna andare giù e Palmira, Atra, Palmira, Cè, Petra, le tre città dei assiri li hanno distrutti. Perciò, se lei incontra uno che ne ha bisogno perché è scappato dalla guerra, però sì. Beh, quello sicuramente, sicuramente. E lei, quando raccolgono i fondi, tipo anche per amatrice, per i terremotati? Telefonate. Telefonate? Sì, 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 qualcosa. Per la chiesa, per le telefonate? Per la chiesa e... E per forza. Ma quelle campagne lì aderite? Sì. Chiamate donando due euro da telefono fisso? Per il cancro, per i bambini. In quel caso la donazione si fa? Eh? In quel caso si fa la donazione? Sì, a noi sì. Dopo non so gli altri. Certo. Per la chiesa, la chiesa chiede, chiede. È arrivata la busta anche stasettimana. Guarda la chiesa. E alla chiesa si dà? Come? Si dà qualcosa per la chiesa? Per forza, se no, su 700 famiglie saranno 100, 150 che danno la busta, 100, 200, massimo. Se no c'è il rischio di andare all'inferno. Gli altri non la danno la busta. A me le mosse in Giappone sì. Non la fa? No. Quando le chiedono... Quando le chiedono... A nessuno? A nessuno. Fare o non fare l'elmosina? Stiamo facendo questa inchiesta. Chi ce l'ha, la può fare. Chi non ce l'ha, allora è meglio che si tiene i suoi risparmi e vede come sbarcare il lunario durante la giornata. Lei come si comporta quando incontra quella che... Si comporto così a metà, a metà. Se in quel momento ho la disponibilità faccio volentieri anche le l'elmosina, altrimenti ci devo pensare. Ma a tutti indischere immediatamente? Oppure preferisce qualcuno, magari quello che fa il teatrino? Non c'è, no, non c'è una preferenza. Secondo me quello che tocca più è un po' il sentimento dell'umanità, secondo la scena che si vede al momento. Si ritiene che quella persona veramente possa avere bisogno oppure no. E quanto si lascia di solito? Eh vabbè, il libretto degli assegni no. Ah ecco, quindi questione di monete. Ecco sì, no certamente, solo monete. E invece quando ci sono le raccolte fondi, anche attraverso televisioni? Sì, sì, col telefono si fa sempre la chiamata, specialmente quando si tratta di bambini. E comunque si fida sempre? No, non mi fido, però la faccio. Fare o non fare le lemosina? A secoto, a chi la devo fare? Come fa lei a decidere a te sia? Allora non lo faccio a nessuno. Sai cosa? Io do sempre qualcosa per i bambini poveri, in India, in... Certo, certo, no no, è comunque... È così, preferisco che fare le lemosina. Che non dare i soldi magari ai ragazzi con il cappello? Bello sì, io lo faccio. Qualche volta? Io a me, cioè il primo che trovo quando vado in paese, sono di chiusone io, quando vado in paese il primo che trovo, gli do dopo basta perché se no sono tantissimo un dietro l'altro. Sono un po' tanti? Sì, sì. Sono tanti? Po' tanti, dipende dalle giornate, certe volte... Il giorno di mercato, poi ciao, lunedì. Sì, sì. Però io, un euro, la mia che... Cioè, sì, sì, sì. Ma ormai il suo amico è diventato un amico di fiducia, quindi... Sì, ecco, sì. Quando la vede sa già che lei... Bravo. Infatti ce n'è uno quando vado al parrucchiello il sabato mattina, che è qui, è sempre lì fuori. Quello ormai devo dargli di sempre. Cioè, ormai si è abituata. E' felicissimo, poverino, anche lui può darcici. Facendo il conto di quanto gli ha lasciato fino adesso, quanto gli avrà dato? Non mi ricordo, poi adesso tutti quelli che ci sono, perché poche volte che vado a Bergamo, che ci sono anche quelli lì. A Bergamo, vabbè, sai a chi non li do scusate? A quelle donne che sono sedute lì per terra, io non riesco a dargli niente. Quei bambini mari in braccio, che peggio. Sì, no, io sono i bambini, magari mi vien da darglielo, ma se... Sono quelle lì che... Quello dice che sfruttano proprio i bambini apposta per impietosire la gente. Certo, 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 certo. Quindi a quelle niente. E invece raccolta tipo teletone, tipo terremotati? Sì, quello sì. Tutti i mesi io mando qualcosa, tutte le volte che esci, tutti i mesi mando qualcosa. O cinque o dieci secondo. Quello che si può. Quello sì, lo faccio sempre. Anche lei? Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Ci si fida? Eh? Ci si fida? Bisogna fidarsi altrimenti ciao a... Io penso che per il telefono dovrebbe, non gli daranno tutti perché lo sai che sarà una percentuale, però mi sembra più fidato, ecco la telecom, mi sembra più... O no? Speriamo, speriamo, speriamo. Non farla. Perché? Perché è un incentivo all'accattonaggio secondo me, per me, dopo non so. E le danno fastidio i ragazzi? No, non mi danno fastidio, però non trovo giusto. Cioè, perché l'emosina... Io vedo il supermercato, dovrei fare dieci euro alla settimana come minimo, perché poi cosa gli dai un euro, cosa cambi? Non sono d'accordo sull'emosina, no. Sono sempre lì, puntuali, precisi? Sì, sì. Non danno fastidio secondo lei? No, a me non importunano, di solito, no, sono gentili, non posso dire che siano... Loro salutano lei? Sì, sì, a volte portano il carrello della spesa, ti chiedono, però per me, a me non importunano, però da dargli l'emosina non mi piace. E quando invece c'è la raccolta fondi? La raccolta fondi, sì, raccolta alimentare, quelle sì, sì, sì. La raccolta alimentare, sono d'accordo. Adesso anche tanti chiedono di fare la telefonata, chiamate il numero... Bisognerebbe... sono un po' troppe, secondo me, adesso le richieste di aiuto. C'è troppa gente che ha bisogno, però... Fin dove si può qualcosa? Se qualcosa si fa, la raccolta fondi, Teleton, per le missioni, le richieste sono diventate un po' tante adesso, bisognerebbe avere molta disponibilità, però vabbè, se si può fare, qualcosina si fa. Grazie a tutti voi che qui da Ponte Nossa avete risposto alle mie domande per il sassone allo sanno della settimana. Grazie anche a Vladimir Lazzarini per le riprese e il montaggio della nostra trasmissione. Se volete suggerire voi il prossimo argomento di discussione per il sassone allo sanno, mandateci una mail info-antenna2.it o chiamateci 0346 23 626. Grazie e buon Natale a tutti.